Ciao a Betis.it! Se c'è un film che mi ha completamente sconvolto, se c'è un film che mi ha completamente spiazzato, se c'è un film che non mi aspettavo di vedere in questo modo, se c'è un film che mi ha completamente disorientato e poi orientato verso il fatto che mi è piaciuto moltissimo, è Il Vegetale di Gennaro Nunziante con Fabio Rovazzi. Un film disneyano nel pieno senso del termine, prodotto da Disney con un utilizzo disneyano di Rovazzi piuttosto geniale e cioè Rovazzi in questo film, il cui nome è Fabio Rovazzi, anche quello del suo personaggio, è ripudiato dall'Italia, non ha una madre, l'Italia appunto non c'è, c'è un'Italia padre che è quella degli ultimi anni. Rovazzi, mai dimenticarlo, è classe 1994, secondo sociologi storici è l'inizio di questo periodo agghiacciante, orribile, che non è finito, alcuni l'hanno chiamato ventennio con parallelismi anche un po' esagerati con un altro ventennio. In realtà non è un ventennio perché per me è aperta la situazione, cioè 1994-2018 non è finito questo periodo, non finirà secondo me con le elezioni di marzo, anzi. È un periodo di profonda decadenza, l'Italia è crollata, l'Italia diventava un paese spento, stupido, osceno e non più erotico, disonesto, profondamente disonesto, profondamente cattivo, profondamente nichilista. Rovazzi è cresciuto in questa Italia, la generazione di Rovazzi è proprio, si è formata e sviluppata dentro questo periodo agghiacciante. È un miracolo che non vadano a gettare le Molotov per strada perché, appunto, come abbiamo ricordato anche con Nicola Guaglianonne nella videointervista, l'Italia non è un paese rivoluzionario, non lo sarà mai, c'è il sole, la pasta con le vongole, Mario Bava, c'aveva ragione, quindi noi comunque ci plaghiamo. Plagare la rabbia non vuol dire che non ci sia una profonda disillusione, una profonda mistizia. C'è già nel fisico, Rovazzi è un emblema, Rovazzi che, appunto, è molto divisivo, c'è chi vuole la sua fine, c'è chi lo esalta, c'è chi lo odia. Rovazzi ha un corpo smilso, magrissimo, ha un corpo sofferenza senza cibo, ha un corpo neorealista, assurdo, e mi piace molto come Enunziante lo inquadra in questo film perché si vede proprio il rachitismo di Rovazzi. Poi ha questo viso antico da Duilio del Prete, di Amici miei, più scuro, è un incrocio tra Duilio del Prete e Bill Hader, di Quel Disasto di Ragazza di Già D'Avato, e mi ha ricordato anche il Diego Germini, mi ricorda il Diego Germini di Zeta, Cosimo Lemano, finché mi è piaciuto moltissimo, questi italiani con queste facce antiche, questi italiani degli anni 90 con queste facce da Rocco e i suoi fratelli. D'altronde Rovazzi, appunto, si trova in una situazione molto neorealista perché è molto triste e disneyana, perché è un cenerentolo, ha una sorellastra, ha una matrigna cattiva, ha un padre che è lontanissimo, e quindi come in una favola Disney comincia questo piccolo uomo, magrissimo, con le costole in rilievo, ma con una grande dignità e con una grande, diciamo, umiltà e capacità di resistere alla botta. Questo è un film anche, per esempio, totalmente Dickensiano, se l'avesse visto Charles Dickens sarebbe impazzito, perché è la storia di un ragazzino che resiste dentro un paese cattivo, dentro un paese schifoso, rappresentato soprattutto da suo papà, interpretato da Nini Bruschetta. Allora Rovazzi comincia questa avventura e la rieducazione, ed è un film incredibilmente politico, ma Gennaro Nunziante, l'uomo che ha declinato benissimo con Luca Medici, la maschera di Checco Zalone, migliorandola sempre di più, migliorandola sempre di più, di film in film, e adesso siamo molto curiosi di vedere dove andrà Luca Medici, senza Gennaro Nunziante alla regia, Nunziante che è un regista di una pulizia formale incredibile, è migliorato, è cresciuto di film in film, questo è un film diretto con una grande precisione, anche se è un film che ha avuto dei problemi produttivi nel declinare Rovazzi in chiave cinematografica, che non era facile, che cosa fai con Rovazzi? E infatti è un film che ha avuto una sua difficoltà ad arrivare a questo Final Cut. Il difetto che do, che dico che possiede questa produzione, ma lo dico perché ammiro questa produzione e sono dalla parte loro, diciamo, è il fatto che sia costato 5 milioni di euro. Perché? Perché c'è stata una difficoltà da parte di Nunziante inizialmente a capire come arrivare al Final Cut, che film faccio? Faccio un film comicone? Faccio un film drammatico? Alla fine è venuto fuori un film disneyano di grande precisione registica e di grande dignità generazionale. È un film, ragazzi, piuttosto rivoluzionario perché pone nella generazione di Rovazzi il futuro è la speranza del paese, è una generazione pulita, una generazione bio nel senso meno radical chic del termine, una generazione biologica, una generazione che torna alla terra, una generazione che torna a raccogliere gli ortaggi a terra. Ed è, attenzione, e questa è una cosa incredibile che non mi aspettavo, una generazione che rieduca il padre, che rieduca l'Italia. L'Italia madre non c'è, l'Italia padre è questa oscenità che dal 94 in poi abbiamo visto di, appunto, figure maschili, soprattutto in politica, completamente inaffidabili, completamente incoscienti, completamente oscene, completamente idiote. Com'è il papà di Fabio Rovazzi in questo film? Ebbè, è una sorta di rieducazione maoista in chiave rovazziana, quella del ritorno nei campi e la rieducazione del padre. Cioè, è una cosa incredibile, sono rimasto veramente sconvolto, non so, non ho la minima idea di come posso andare al botteghino questo film, non ho la minima idea di quello che sia il target, mi trovo sempre molto in imbarazzo quando leggo di colleghi o non colleghi così bravi a fare analisi di marketing, io non ci capisco niente di queste cose, non so assolutamente che target abbia questo film, ma so che mi è piaciuto molto, è sotto i 90 minuti, c'è una Milano, c'è un'alienazione cittadina che mi ha ricordato quella delle nichette di Rata Tavlan, c'è un nunziante che sì, avrà impiegato troppi soldi e ci avrà messo troppo tempo ad arrivare a questa conclusione final cut, ma comunque è un final cut che io ho trovato veramente strabiliante e c'è un utilizzo di Luca Zingaretti che ha un ruolo molto interessante nel film, c'è un'uscita dal film di Zingaretti polanskiana come termini di crudeltà, anche di rappresentazione, di precisione spietata e crudele, di rappresentazione cinematografica dinunziante polanskiana, perché a quel punto il film diventa un incubo, un'altra cosa, insomma, non so se si è capito, ma non so veramente che cosa abbiano fatto, però brindiamo al carattere, come direbbe Orson Welles, cioè questo è un signore che nel videoclip volare, appunto Maccio Capodonda, gli dice hai avuto troppo successo Fabio, devi allearti con Gianni Morandi perché non è odiabile, quindi un uomo che ha avuto un grande successo con delle canzoni ma che dice che non è un cantante, ha parte della sua generazione che lo vuole ammazzare, un po' come accadde ad Ambra ai tempi di Non è la Rai, è parte della sua generazione che invece apprezza di Lovazzi questo suo understatement, questo suo humor, è uno dei tanti ragazzini che conoscono i Monty Python per esempio, questa è una cosa che mi colpisce molto da appassionato e studioso di Monty Python, perché quando ero giovane io erano un oggetto completamente misterioso, perché non erano arrivati in Italia, non c'erano stati critici tra meglio gioventù, non c'erano capito niente perché erano troppo ideologici quei critici per capire la totale anti-ideologia dei Monty Python e la loro libertà espressiva. E quello che mi colpisce molto e che mi fa sempre riflettere sulla potenza dei Monty Python è anche il fatto che ora dai Pills a Mandelli e Biggio, Biggio e Mandelli e Rovazzi, i Jagal, tutti questi giovani creativi in vari campi espressivi italiani conoscano perfettamente Monty Python e diano del tu al loro modo di concepire la comicità. Beh, insomma, è un film pythoniano nel senso che è estremamente serio, estremamente profondo, estremamente politico come può essere un Brian di Nazareth, ma senza appunto quell'esplosione comica. Quindi io non so veramente che cosa succederà a questa pellicola, però chapeau a Gennaro Nunziante e chapeau a Rovazzi per aver accettato di sé questa declinazione così assurda e così politica che a me mi entusiasma perché io odio la meglio gioventù, odio i vecchi, ma la meglio gioventù sono vecchi anche se sono sempre gli eterni giovani, e io invece credo in loro. Cioè io credo assolutamente che questo paese se potrà mai risollevarsi nel giro di 20-25 anni, non prima, sarà grazie alla generazione di Rovazzi, e la mia generazione deve solo mettersi al servizio di questi qui e dargli un rabano. Questo è un film che ti racconta assolutamente di quanto questi ragazzini nati e cresciuti nel periodo più schifoso e negativo del dopoguerra italiano possano avere in loro stessi invece il barlume veramente della speranza di un'Italia migliore. E questo è Il Vegetale con Fabio Rovazzi, un film estremamente politico. Ciao, Betteist! Ciao, Betteist!